Eccoci in Utah, come dicono i locali. Stiamo al Best Western Plus Ruby's Inn, che è un inn, un hotel, molto caratteristico, molto carino, molto, noi diciamo sempre molto canadese, però si vede che è molto nordamericano, ecco, di montagna, nordamericano di montagna. Ruby's Inn, che si trova praticamente all'interno del parco del Brace Canyon, quindi stiamo a Brace Canyon, ah vabbè, si era capito dal cappello, Brace Canyon, continuiamo il tour, va? Stiamo a 2.300 metri, e questo è l'inn, quindi c'è una main lodge, dove c'è stato il General Store, che vende cose, un po' di tutto. Cappelli, cari. Vuoi vedere il cappello? Cari? No, non è anche tanto, è un cappello che ci ha salvato la vita stamattina. Guarda, un dollaro canadese, poco non è, però è molto bello, molto buono, c'è pure l'orso. E pure l'orso, che vuoi di più? No, infatti, veramente sono contenta che l'abbiamo comprato, figo. Sono tutte queste lodge, queste sono queste specie di mini motel, queste strutture separate di camere, perché non c'entravano tutte dentro la gente. Ah, questo è solo il mini lodge, ci sono poche camere, poi c'è la piscina, eccetera. Sì, questa, poi dentro c'è un'altra parte, queste sono queste, sembrano come tutti i piccoli motel, un accanto all'altro. Si chiamano, uno si chiama il lodge del cervo, noi stiamo nel lodge del un animale, mi ricordo. Andate in antilope. Notare la neve, eccolo qui, Antelope Lodge, il lodge dell'antilope. Ah, è un sacco di spazio. Mi hanno detto che è iniziato come un campamento, come un camping di tende, poi si sono allargati, hanno fatto prima un lodge vicino proprio al canyon, e poi siete che hanno fatto i soldi e hanno costruito questo qua. Andiamo a vedere la camera all'interno. Mi assomiglia molto a quelle dei motel, se vedono pure un po' nei telefilm. Eccoci all'interno, ecco la nostra modella. Complicemente sempre più in là. Pieni di roba. Allora, prima una bellissima... Io non mi entrerà roba in malicia, vado così. Tipo fino a Michelin. Sì, da Las Vegas. Bellissima stufetta, funzionante. Termotipone elettrico. Arriva tipo un getto... Guardate, c'è un'altra cosa. Vabbè, una poltrona. Poi ovviamente due letti, perché uno non basta. Noi però piace dormire su uno, tanto uno. È un letto normale. È un letto. E poi sull'altro lo usiamo per mettere... Poggiare le cose. Notare i quadri western. Col Bryce. Col cowboy. Non c'è l'indiano, fortunatamente. Qui c'è stato l'altro cowboy. Qui c'è stato l'altro western. C'è una patata di sé, è carino. È molto classico. Ma è microonde. Qui dentro ci sta... Vabbè, il frigo che ronza. Ma la parte forte viene di là. La parte forte. E qui, vabbè, grande... Cioè, il lavandine è fuori. Sì, qui di repente c'è, ma non c'è niente. Però poi resta un lavandino. Sì, questo è inutile. Qui kleenex, carino, usato. Cioè, senza cembù nel marmode. Poi hanno fatto proprio... Vabbè. Apposta. Qui c'è uno specchio nascosto dentro un guardaroba. Complimenti all'idea. Non ci siamo accolti che c'era, te lo stavamo. Vabbè. Qui c'è il bagno. Ah, aspetta. Qui sono due... Le chicche della camera. Ecco, diciamo le chicche della camera. Le chicche. Allora, questo ci ho messo 5 minuti. A capire come funziona. Allora, uno dice, faccio così. Oppure dice, spingo, no? Come quelli del bagno. No. No. Perché hanno dovuto mettere istruzioni che poi hanno messo qua il bagno. Hanno dovuto spiegare. Perché è praticamente assurdo. Cioè, nel senso, tu tiri. Porte. Poi per regolare. Prenda calda. E poi per spingere, tipo, spinge. Fortissimo. Ok. Vabbè, asciugamani per terra perché so da lavare, ci hanno detto. Poi voglio far vedere una cosa. Vabbè, doccia. Tac. Carina. Un momento di staccato oggi. Vabbè. E il bagno. Sì. 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 Abbiamo fatto tante video con l'altro bagno. Il bagno americano. Ecco. Allora, cominciamo così il video. Allora, bagno americano. Poi dopo... E' il video che spiegherà dove abbiamo dormito, eh. Però lo intitoliamo il bagno americano. Ma vuoi fare un clickbait? Perché se no non fai un avvio. Dai, dico. Vabbè. Allora, guardate il bagno americano. Direi, ma vuoi dire, in cana... Noi non ce l'abbiamo così. Questo è proprio il cesso americano. Guardate che figata. Si riempie d'acqua tutta la tassa e porta giù in un cortice d'acqua tutto. E' sempre molto attirato che si bagni. Interruttori americani. Notare. Tac. Tac. Spina americana. Immacchiabile portagliaccio. Portagliaccio americano. Certo, perché... Tac, combustina. Perché è un po' igienico. Siccome fa caldo. Caffè americano. E, a dire vita... Tè. Tè. Non americano, però con il bergamotto calabrese. Guarda. Questa è l'attanta. Tutto così. Tutto di legno. Ovviamente l'immancabile ice dispenser e il Coca-Cola dispensa. Le dispense che sennò si sentono male se non ce l'hanno. Però non viene niente. Ma che caccia ce ti fa con tutto sto ghiaccio? Ma poi d'inverno pure, se ne fanno certi bibitoni ghiacciati. Questa è la piscina interna, che purtroppo non possiamo utilizzare perché ci abbiamo tanto tempo. Molto odore di cloro. Poi qui un business center dove businessmen possono fare le loro cose. E qui c'è tutta una parte che poi diventa un po'... Un po' Giappone. Vabbè, questo è un po' Giappone, non si è capito. E qui vende e diventa un po' uno shop corridoio slash shop. Un po' Carboy, un po' stile così. Vedete, queste le vendono tutte foto. Brass Canyon. Questa è il legno che è identificato. Electrified wood. Wow. È il legno che si è trasformato in fossili. 200 milioni di anni fa, diventati fossili. Questa quant'è posta. 4002, un legno che è tricchietto. 4009. Wow. Questo qual è? Se non dire foto, puoi vedere tutta la zona. Quindi anche dei posti che abbiamo visto. Questo, per dire l'antillope canyon. Nice. Sai che è un po' è roso, sembra così che faccia caldo. Ti dà questa impressione. Ecco qui, i due cowboy, i due indiani ce li butti là come niente. Qui c'è il negozietto. Questa è la main lobby. Dove c'è? Ah, già non c'è adesso. Però ieri c'era il fuoco qui, perché comunque la sera fa freschetto. Ovviamente animali impagliati, cervi e similari. Capra delle montagne. Molto legno. Andate adesso. Qui vendono alcolici, ovviamente. che ne vendono alcolici dentro un hotel. Morabilia varia. Andiamo a fare colazione. Questo buffet, dovete fare colazione. Avete diviso salate, salate, soup, dessert. Wow, grande. Vai, vai, grande. Buon appetito. La colazione dei campioni. Hot meal, Alessia andrà sul salato, io su, quasi tutto salato. Insomma, campioni, campioncini. Ora, per me, hot meal, quindi avena, marmellata, tipo carcerato, uovo. Questo non ho capito che è. Biscotto. Biscotto, che in verità è un po' di pane, tu hai preso uguale, solo hai preso le patate, non hai preso l'hot meal, perché non ti piace? No. E sto pane, manca il burro. E non l'ho trovato. Se trovo. Mi piace il cream cheese. Ho trovato degli italiani, troppo. Eh, andete. Gli ragazzi italiani. Vedevano alla cameriera, se c'era, se c'era affellata. Affellata. Forniti, poli. Caffellate, cose davvero così. E adesso no, only American. Caffellate. Eh, va bene, America e caffellate in cielo. Siamo di fronte all'Inn, all'hotel dove stavamo. Hanno ricostruito, diciamo, una piccola cittadina western. C'è un piccolo posto, diciamo, dove i ragazzi, i bambini, tutti, i adulti, possono vedere i vari minerali della zona. Molto carino. C'è un wagon tipico del paro west con scheletto rocks when it's ice cream. C'è un bel white. Poi c'è una cosa fichissima, abbiamo già visto prima, sono questi legni, diciamo, tronchi cristallizzati. Vediamo uno che se ne vede bene. sono tronchi cristallizzati, quindi sembrano cristalli. Questo viene per dire 14.000 dollari. Wow. Questo 3006. E poi hanno fatto tutti shops, ice cream shop, rock shop, petrified fossil shop. e il fox è stato qua. Bello. Ah, questi hanno un nome che non mi ricordo. C'è un pochiglie. Scrivetlielo nei commenti, geologi all'ascolto. Ah, sempre delle rubisine, sempre roba loro. Questi li comandano la città, praticamente. Vabbè, ciao ciao. Ciao.